musica ho difficoltà appunto nel gestirli tutti quanti quindi mi dispiace se non sono molto attivo qui sul canale e vi pregherei se volete supportarmi per farmi capire che ci siete ancora di lasciare un like a questo video perché ragazzi è davvero molto importante cerchiamo di superare almeno i 200 like per farmi capire appunto che ci siete ancora iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdere i prossimi contenuti di GTA e adesso possiamo partire con quello che è appunto il video di oggi come avete letto dal titolo ragazzi molti mi chiedete Foxound fai account mondati per GTA 5? Foxound mi fa un account mondato su GTA 5 con rango, soldi, tutto sbloccato e oggi in questo video andrò a analizzare questa cosa visto che me lo chiedete davvero in tantissimi e quindi oggi appunto risponderò a queste domande frequenti che mi fate allora ragazzi come sapete io mondo account per GTA 5 online ovviamente con rango, soldi, tutto sbloccato tutto quanto, tante cose aggiuntive che poi il listino lo potete trovare tranquillamente nella pagina Facebook che troverete appunto il link in descrizione quindi cosa appunto dovete fare se volete avere un account mondato semplicemente se volete avere un account mondato mi contattate su Facebook sulla pagina Facebook oppure sul profilo Facebook entrammi in descrizione e da lì ovviamente mi scrivete mi scrivete voglio un account mondato mi dite la console vi ricordo che la console sia su PS3, PS4, Xbox One e PC purtroppo no su 360 che molti me lo chiedono ma purtroppo ragazzi su 360 non mondo più quindi mi dispiace per tutti coloro che hanno Xbox 360 e ovviamente ragazzi non è gratis ma sto facendo un sacco di offerte ragazzi proprio tantissime tra cui due account mondati a solamente 5 euro e altre offerte tipo 4 account mondati solamente 10 euro cioè praticamente con voi con 10 euro ve ne portate a casa 4 che hanno rango, soldi, tutto sbloccato, abilità al massimo tutte queste cose qua veicoli delle rapine tutto quanto insomma proprio qualunque cosa appunto ci sia nel listino ovviamente perché tanto seguo il mio listino ragazzi no è il listino di altre persone perché molti mi chiedono metti queste determinate cose voi basta che controllate il listino nella pagina Facebook e se siete interessati appunto mi iscrivete in pagina oppure sul profilo e mi iscrivete Fox Sound voglio un account moddato e sono su PS3, PS4 quello che è la consola appunto che avete e quindi luna ragazzi questo appunto era soltanto un video dove vi avvisavo appunto di questa cosa che appunto faccio account moddati quindi se siete interessati io li faccio a basso prezzo ragazzi perché comunque voglio aiutare voi perché comunque mi sembra troppo pagare un account veramente tanto quindi io li faccio a basso prezzo ragazzi per questo motivo ecco per aiutarvi a voi in quanto spendere troppo per un gioco non ne vale appunto la pena quindi io faccio tante offerte per voi per farvi permettere un account moddato anche a voi quindi nulla ragazzi questo era appunto questo era il video di oggi se siete interessati come ripetete account moddati contattatemi nel link della pagina Facebook nel profilo Facebook in descrizione quindi nulla ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto in tal caso vi ricordo di lasciare un bel like iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdervi i prossimi video di GTA cerchiamo ragazzi di arrivare almeno a 200 like per questo video così almeno mi aiutate davvero tantissimo e so appunto che ci siete ancora e che mi supportate davvero tantissimo passate oltre la pagina Facebook profilo Facebook sempre per gli account moddati di GTA 5 mi raccomando ragazzi contattatemi in tanti che non vi repentirete e quindi nulla passate oltre nel profilo tele nel canale Telegram nel profilo Instagram tutti i link che ne trovate nella descrizione noi ci sentiamo ad un prossimo video un saluto da Foxound bella